Musica Amici e amici di Rossini TV, buongiorno e bentornati a una nuova puntata di Casa Rossini. Oggi abbiamo ospite con noi il nuovo sindaco di Fossombrone, Massimo Berloni. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Buongiorno, fresco di nomina possiamo dirlo con un risultato straordinario, il 60% direttamente al primo turno, è chiaro che in campagna elettorale le aspettative ci sono, i sondaggi, le ricette, le ricerche, tutto, però adesso a bocce ferme, a risultato acquisito, la domanda mi viene spontanea, se lo aspettava? Beh, me l'aspettavo, una vincita me l'aspettavo, dopo è tutto più semplice valutarlo, però gli ultimi due giorni così c'è sempre un po' di suspense, un po' di angoscia, che però dopo, il giorno dopo è stato tutto più facile. Dal giorno dopo, insomma, la strada si spiana, o meglio, dal giorno dopo incomincia la vera strada, perché poi diciamo che noi siamo abituati a pensare a un discorso legato all'essere eletti come una gara, no? In una gara c'è la gara elettorale, la competizione, si dice anche la competizione elettorale, per cui a un certo punto c'è chi vince, c'è chi perde, in una gara però una volta vinto è finito, invece in una competizione elettorale una volta vinto si comincia. Sì, dal giorno dopo si inizia ed è una competizione quotidiana con te stesso, con una responsabilità che ti è stata affidata, dalla quale ovviamente giorno per giorno devi dimostrare in primis a te e poi di seguito ai tuoi concittadini che hanno fatto bene. Io sono andato a vedere il sito, il sito internet della posizione che è stata sviluppata come campagna elettorale ed è un sito importante, non se ne vedono tanti diciamo di quel genere, un sito che ha un forte impatto e una forte impronta anche impreditoriale, di questo parleremo dopo. Nel sito già si parlava della squadra, una squadra che poi è stata rispettata nelle promesse, è di pochi giorni fa l'insediamento della giunta e nella giunta ci sono elementi che erano stati segnalati e indicati nella squadra. È il mantenimento di una prima promessa importante? È una promessa fisiologica, è una promessa che in realtà siamo partiti con un'idea insieme, con una squadra e siamo arrivati insieme all'obiettivo, quindi era una cosa che in qualche maniera dal mio punto di vista non poteva, in qualche maniera non ci si aspettava delle sorprese, così è nata e così è andata avanti. Abbiamo quattro assessori, Michele Chiarabilli, Laura Giombini, Federica Romiti, Maurizio Mezzanotti, una squadra che tra l'altro sarà molto presente sul territorio perché poi naturalmente per poi sviluppare un programma bisogna essere molto presenti sui territori. Presenti nel territorio, presenti in ufficio, presenti nelle quotidianità per risolvere i problemi che una normale amministrazione deve affrontare ogni giorno, quindi ci vuole molta dedizione oltre che la competenza e cercare di lavorare ottimizzando i tempi che abbiamo, cercando di dare il meglio che possiamo. Fossombrone è una realtà importante della nostra provincia, quasi 10.000 abitanti, un territorio piuttosto vasto, diverse aziende importanti tra cui le sue, diciamo che è una realtà che vuole imporsi anche a livello provinciale, forse un po' di più di quanto non fosse stato fatto fino ad oggi? Io credo che francamente Fossombrone merita di essere ricollocata per quello che è, è al centro di una vallata, è strategicamente importante, è piena di risorse, piena di bellezza, quindi è giusto che ritorni e gli si dia la giusta importanza. Essere un sindaco della provincia, di un comune della provincia vuol dire far parte di un gruppo di 42 sindaci che lavorano in certi casi anche in sinergia. Lei ha già avviato dei rapporti con altri sindaci magari dei comuni limitrofi o è in procinto di farlo o è già inserito in realtà nelle quali magari i sindaci stanno lavorando dei progetti o è tutta una cosa da fare? No guardi, su questo punto sono abbastanza fortunato, nel senso che pur non essendo stato mai una persona politicamente esposta, ma per qualche ragione ho avuto sempre buoni rapporti con tanti di questi sindaci, rapporti personali di stima, di cordialità, quindi se non con tutti, ma con una buona parte ho avuto il piacere di avere a che fare a livello personale, quindi è una cosa che francamente affronto con tutta la serenità e con tutta un'importanza che in questo momento credo che meriti il fatto del confronto, di riuscire a lavorare insieme, di cercare in qualche maniera di coordinarci per una provincia che anche lei merita molto più di quello che in realtà è il percepito. In linea, insomma con una voglia di emergere anche da parte di tutto il territorio provinciale e di conseguenza di tutti gli altri sindaci, questo è un po' quello che mi sta dicendo. Sì, ma francamente io non credo di essere l'unico orgoglioso di abitare in questo posto, non credo di essere l'unico obiettivo per valutare realmente quello che vale la nostra provincia. Stiamo già iniziando a parlare di Natale, ovviamente il suo mandato è stato in qualche modo indicato anche nella campagna eccetera, come qualcosa che si ponesse in relativa discontinuità con il mandato precedente, però ci sono alcune cose che si portano avanti, per esempio il rapporto con la Proloco e il rapporto con quest'idea di rilanciare il Natale, una cosa che già c'era, insomma i rapporti con chi c'era prima e che lavorava prima vengono comunque mantenuti. Sì, ci sono certe espressioni come la discontinuità, che è di moda, non riesco a capire perché uno deve essere discontinuo, deve semplicemente con molta umiltà in prima analisi capire quello che c'è stato di buono e continuare, cercare di valorizzare quello che è stato fatto, non è che siamo gli illuminati dell'ultimo minuto, quindi c'è gente che ha lavorato prima, dobbiamo essere sufficientemente laici per capire quello che è stato un percorso che ha funzionato, che è stato fatto bene e quindi proseguire su quello. Per quanto riguarda il Natale, il Natale francamente qui di discontinuità c'è poco, sono stato sempre molto vicino a questo momento, a questa espressione che la nostra comunità mette insieme a livello anche logistico dentro il nostro paese, quindi sono perfettamente in linea e cerchiamo di dare e contribuire per quel che possiamo a questo percorso. Il sindaco Berloni è molto conosciuto a livello mondiale per il suo passato, io dico mondiale, il brand che lei ha lanciato e dal quale poi si è distaccato in tempi recenti è un brand sicuramente che ha fatto epoca e ha portato comunque il nome del nostro territorio ma anche il nome del brand sicuramente in tutte le passerelle, insomma leggiamo interviste su Forbes nelle quali sua moglie è indicata tra le 100 donne più influenti, insomma voglio dire il mondo è questo, insomma. Lei riparte con uno slancio, un nuovo slancio con altre due imprese, una è una academy di design, di stile che nasce con l'idea di andare a recuperare dei marchi su tutto il territorio, su tutto il mondo perché il primo marchio che avete recuperato è un marchio americano addirittura del 1800, se non sbaglio 1870, lanciato da un italo americano, un marchio di jeans e poi dall'altra parte invece c'è questa voglia di tornare in maniera potente al territorio inteso come terra, addirittura un'azienda agricola. È un po' un modo di restituire al territorio questa mentalità molto americana e anche un po' anglosassone della restituzione, un territorio mi dà delle cose, io ci ritorno e riporto sul territorio delle cose? Io di anglosassone e di americano poco, sono orgogliosamente di sorungherina come dico spesso e quindi ho poco a che fare pur ammirandoli sotto certi punti di vista con questi popoli. Diciamo che fondamentalmente nella vita bisogna avere anche una buona dose di fortuna, la mia è quella di aver incontrato una donna che è mia moglie e che in qualche maniera con lei è stato tutto molto più facile quello che ho fatto, perché lei è quella che ha contribuito, ha fatto e ha la sensibilità per fare il percorso nell'abbigliamento che ho avuto la fortuna di percorrere. Per quanto riguarda l'academy che lei ha detto, è sempre una sua espressione, una sua volontà nel cercare di continuare a fare ciò che gli piace, ciò che le resta molto facile. Quello di creare è quello di creare, di pensare e di dar sfogo a quello che è il suo talento. Quindi sì è vero, è una fucina che in qualche maniera non ci illudiamo, ma vogliamo mettere realmente in pratica che deve essere una sorta di collaborazione tra giovani, una sorta di, come dice la parola stessa, di una futura accademia per quelli che si avvicinano a questo mondo dell'abbigliamento. È ovvio che in questo caso lei ha citato un marchio, ha in qualche maniera una storicità che riparte dal 1900 e quindi rimetterla insieme, rimetterla in gioco è stata una sfida, è una sfida, ma ci piace e andiamo avanti. Per quanto riguarda la cantina, questa qui è una cosa che parte proprio dalle mie origini, io non mi avvicino al mondo rurale, ma sono nato in questo mondo, lo dico con orgoglio, è quello che mi ha in qualche maniera contaminato nel senso positivo, quindi soltanto, come dire, ho la possibilità di farlo, di ritornare e di riassaporare quelle che sono le mie emozioni, le mie sensazioni con le quali sono nato, quindi nulla di nuovo, è semplicemente una possibilità che mi è stata data e voglio sfruttarla fino in fondo, quello di star vicino alla nostra terra, ai nostri sapori, alla nostra cultura. La Collina delle Fate è affascinante sia come nome che come sito, perché io ancora personalmente lo sono andato a vedere, ma questa possibilità è data, cioè dal sito viene fuori un apposito percorso attraverso il quale è possibile venire a fare una visita e addirittura soggiornare, per cui c'è questa possibilità di entrare in maniera potente, è importante dentro questa vostra realtà. Sì, mettere e avere in qualche maniera a disposizione delle persone che frequentano questo sito, credo che sia in qualche maniera il veicolo per gioire di quello che uno ha fatto, se uno resta isolato nel suo mondo, nel suo microcosmo, ovviamente tutto quello che ha fatto ha poco senso, invece condividere con altre persone, dare la possibilità di vedere, assaporare e capire, credo che sia il motore di tutto, sia quell'elemento che serve per continuare a lavorare, per continuare a migliorarsi, come fa uno a migliorarsi se non c'è un confronto con qualcuno. Sta uscendo sempre più spesso, anche nell'arco di altre interviste che ho fatto, ma anche in altre situazioni degli speciali, cose varie, sta uscendo sempre più spesso l'idea che sia necessario non tanto focalizzarsi su un prodotto, su un articolo, quanto su una storia. Cioè il pubblico ha bisogno di ascoltare e di conseguenza poi magari acquistare storie più che oggetti, più che prodotti, più che articoli. Questo emerge in maniera potente un po' da tutte queste realtà di successo e mi sembra che anche nel suo caso sia evidente, il recupero di Sifarer come marchio del 1800, la storia che si può assaporare e si può imparare a conoscere venendovi a trovare alla collina delle fate. Insomma sono tutte situazioni nelle quali quello che si propone è un'esperienza di vita che poi si concretizza in un risultato che è il prodotto, l'articolo o il capo. Ho interpretato bene? Credo di sì perché fondamentalmente dal mio punto di vista non credo che ci sia la necessità di vendere un prodotto sterile finalizzato a se stesso, ossia nessuno francamente ha bisogno di acquistare un prodotto per la necessità di farlo. Non sto parlando ovviamente di prodotti come l'abbigliamento o come può essere un vino o l'olio che stiamo producendo dall'altra parte. In realtà quando in qualche maniera cerchiamo di mettere insieme un prodotto, dentro questo prodotto c'è una storia, c'è la nostra filosofia, c'è in qualche maniera come dire un'emozione che è dettata da quello che sei, da quello che fai e da quello che vuoi trasmettere. Ossia un concetto che non è legato a un valore materiale ma è a una storia che ci porta a quel prodotto. E' una ricerca, un modo di essere che in qualche maniera contamina il prodotto stesso e l'espressione del prodotto, il contenuto del prodotto è proprio l'espressione che c'è dentro questa storia. E questa filosofia è possibile trasportarla anche in politica, in amministrazione? E' possibile costruire un interesse intorno alla storia di una comunità? Assolutamente sì, sì perché credo che anche nella politica c'è una componente fondamentale che è l'emozione. Perché faccio politica in questo caso? Più che altro perché faccio l'amministratore di una mia comunità? Perché in realtà cerco di dare il meglio di me stesso, c'è un qualcosa che sto facendo che non dovrei farlo. per necessità, non ho nessuna necessità di farlo e se lo fai, lo fai per un'emozione, per dare un qualcosa che in qualche maniera ti ritorna come effetto positivo, come effetto rindondante di quello che stai facendo. Quindi è un aspetto sicuramente che la parte emozionale è la parte fondamentale. Allora, fino a qualche mese fa avevamo Massimo Berloni, imprenditore di successo molto impegnato. Adesso abbiamo Massimo Berloni, sindaco di Fossombrone, quartiere comune impegnativo e comunque popoloso e tutto il resto. La giornata però di Massimo Berloni è sempre di 24 ore. Ci riusciamo a far stare dentro tutto? Sì, allarghiamo i gomiti, cerchiamo di infilarci, a casa brontola un po', però cerchiamo assolutamente di fare il meglio che si può col tempo che abbiamo. All'inizio, in una situazione del genere come essere sindaco di una comunità come Fossombrone, all'inizio richiede molto più tempo per capire, con molta umidità, per valorizzare quello che c'è soprattutto e per cercare di attivare tutte le forze a disposizione, per cercare di darci tutti insieme una mano per rendere più efficiente il sistema, il prima possibile, usando la migliore maniera per concretizzare quello che necessita oggi a Fossombrone. Il 60% dei consensi è la cosa migliore per cominciare bene. Sindaco, siamo stati molto bene con lei e mi auguro che lo stesso sia stato per lei e per i nostri telespettatori. Abbiamo concluso la nostra chiacchierata e sicuramente cercheremo di tenerci aggiornati sugli sviluppi di Fossombrone attraverso i nostri Tg e perché no, magari anche attraverso una prossima chiacchierata quando lei avrà la possibilità e voglia di tornare qua a trovarci e magari con qualcos'altro di nuovo per aggiornarci. Intanto io la ringrazio. Bene, è stato un piacere. Ringraziamo anche tutti i nostri telespettatori per averci seguito e naturalmente invitando tutti a restare sempre in visione dei programmi di Rossini TV, vi diamo appuntamento a una prossima puntata di Casa Rossini. Oggi siamo stati con il sindaco Massimo Berloni, il sindaco di Fossombrone, che ringraziamo ancora una volta e salutiamo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno a voi.